Numerosi simpatizzanti, tra cui molti giovani, hanno partecipato alla prima assemblea aperta al pubblico, promossa dal coordinamento civico che ha formulato e sottoscritto la scorsa primavera il documento denominato Patto Etico per una partecipazione responsabile. Durante l'assemblea sono state trattate varie tematiche in vista delle prossime amministrative che porteranno in seguito alla stesura di un vero e proprio programma amministrativo. Per i promotori del patto etico il progetto in atto rappresenta una proposta diversa dalla modalità tradizionale espressa fino ad oggi dai partiti ed è rivolto a tutti coloro che vogliono rendersi protagonisti attivi del cambiamento della città. Le nostre proposte sono rivolte a tutti i cittadini, cioè a tutti coloro che attivamente vorranno fornire un proprio contributo per la realizzazione di un progetto diverso, che si distingue da quelli che fino ad oggi si sono proposti alla cittadinanza e che innanzitutto parte da una formazione di coloro che in prima persona si spenderanno per la realizzazione di questo progetto volto alla cittadinanza. Sono stati realizzati infatti dei temi, sono stati individuati dei temi, conseguentemente la realizzazione di gruppi di lavoro ai quali parteciperanno tutti coloro che vorranno fornire la propria competenza e il proprio apporto per la realizzazione di questo progetto. Quindi insomma che i destinatari sono tutti i cittadini che attivamente si vorranno spendere per la città. Il messaggio che noi giovani partecipando a questa iniziativa abbiamo voluto trasmettere è in primo luogo un messaggio di speranza. Speranza perché siamo convinti che tutto è una situazione di stall, tutto può cambiare, anzi deve cambiare. Soltanto grazie a noi, ovviamente supportati dai più grandi, dagli adulti, con la loro esperienza, la nostra fantasia, la nostra voglia di fare possiamo contribuire per migliorare la città. Noi non proporremo un percorso o un'idea, noi vogliamo condividere un percorso e vogliamo condividere un'idea. La proposta verrà dalla base, noi vogliamo una democrazia partecipata in cui ogni singolo attivista del movimento possa dare il proprio contributo e possa messersi soprattutto in discussione e dare un valore aggiunto al nostro pensiero, al nostro progetto.